ci siamo oggi 4 maggio si riparte è una data carica di attese anche per capire quale sarà la futura evoluzione della crisi nel corso di queste settimane come siderweb abbiamo raccolto le impressioni delle aziende partendo dai territori più colpiti il nord il piemonte la lombardia il veneto che rappresentano una zona dove forse più che nel resto d'italia è emersa la voglia di ripartire con la spinta propositiva che probabilmente aiuterà a migliorare quelle percentuale di fa calo del fatturato previste nell'ordine del anche del 25 30 per cento come ha confermato nel corso dell'ultimo webinar di siderweb anche il presidente del gruppo ferralpi giuseppe pazini l'atteggiamento delle aziende in questa fase è stato quello di cercare di assorbire il colpo di limitare i danni di giocare un po in difesa la speranza è che adesso con la la ripartenza anche di settori utilizzatori importanti come l'automotive e le costruzioni si possa riprovare a partire con un pochino più di slancio in attacco ci sono state due settimane di rodaggio e le aziende adesso dovrebbero essere pronte sullo sfondo ci sono diversi timori il primo è che dopo una fiammata iniziale della domanda dovuta al ristoccaggio ci possa essere nuovamente un calo e ci si possa rischiare di doversi fermare di nuovo per la mancanza di ordini più che non per l'esplosione del contagio l'altro l'altro grande timore è quello degli insoluti anche se in questo caso ci sono iniziative come quella con l'hashtag io pago i fornitori promossa anche dall'associazione industriale bresciana che ha visto aderire 156 aziende in un mese solo e questo dà speranza perché le aziende possano comunque superare anche questa criticità resta comunque da capire come e quanto e adesso questo è quello che ci attende in queste prossime settimane saranno efficaci i provvedimenti del governo lanciati sia per i cittadini ma soprattutto per le imprese per aiutarli nella liquidità e nel cercare di avere le risorse e la forza necessaria per superare la crisi dovrò 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 Autore dei sovrapposti